Presidente, nonostante la Mazzarese si trova nella parte alta della classifica, c'è stato un terremoto societario, come mai? No, sinceramente il terreno non ha tremato, è stata una valutazione strategica di prospettiva, intanto che mi porta a ringraziare tutti quelli che ci sono stati fino ad oggi e che non ci saranno ovviamente nel proseguo, per il ringrazio del lavoro che hanno svolto, che hanno fatto con dedizione, abbiamo ritenuto invece utile proprio per mantenere salda la struttura societaria e l'aspetto anche finanziario della società stessa che era più utile riproporre quello che avevamo fatto l'anno scorso con giovani che nel frattempo sono cresciuti anche calcisticamente e quindi puntare sui talenti mazzaresi, rivedendo alla luce anche della corazzata Agragas ma anche del Misimeli che hanno messo sul campo risorse finanziarie più importanti delle nostre, di andare ai playoff e farlo con i giovani mazzaresi. Credo che questo non sia una rivoluzione o un terremoto ma sia una riproposizione attenta di un progetto che nasce da una società strutturata sia sotto il profilo della qualità di chi ne fa parte ma anche sotto il profilo giuridico. Ci apprestiamo da qui a qualche giorno a sottoscrivere e a tramutarla in SRL e credo che chi conosce il calcio e chi sa come si muove questo mondo fare di un ASD, un SRL significa quel salto di qualità che ti permetterà di gestire impianti sportivi, che ti permetterà di fare calcio minore di adottare sin da subito i ragazzini che vogliono crescere e sogno di fare calciatori. Quest'anno con sofferenza, anche ammettendo qualche errore che sicuramente io avrò fatto e me ne addosso tutte le responsabilità sbagliare umano o perseverare da bestia, siccome siamo umani e non siamo bestie, non abbiamo generato un terremoto anzi abbiamo messo gli argini per far sì che qualora ci fosse un terremoto la nostra casa sia ben solida. Ieri siamo stati piacevolmente convocati dalla dirigenza del Mazzara che ha preso questa brillante iniziativa per tentare di pianificare un progetto unico calcistico che potesse portare finalmente dopo 40 anni la Mazzara calcistica al di fuori della palute dell'eccellenza. Per quanto riguarda l'SC mazzarese abbiamo dato immediata disponibilità su questo ponendo solo una condizione, cioè quella di utilizzare la struttura societaria dell'SC mazzarese. Poi per il resto il tutto non era un problema e infatti il segnale è stato colto positivamente un po' da tutti. Penso che il sindaco che non ho sicuramente sarà stato invitato, non eravamo nel palazzo comunale, sarà stato invitato anche dal Mazzara che ha pianificato questa riunione, abbia fondamentalmente apprezzato quello che ci siamo detti. Io mi auguro e auspico che ciò avvenga. Ovviamente ho registrato qualche disomogeneità nelle posizioni del Mazzara, ma non voglio entrare nel merito, voglio esclusivamente ringraziare il Mazzara proprio perché ha avuto questa intuizione di pianificare una riunione, che spero porti a risultati positivi per l'intero mondo calcistico, mondo pallonare o mazzarese. Il ritorno di Mister Egliacono si ce l'ha lasciato un po' freddamente? No, senza nessun imbarazzo abbiamo riconosciuto sempre che Egliacono l'anno scorso ha fatto assieme alla società un campionato meraviglioso, sia con il quinto posto raggiunto sia anche al primo anno di eccellenza con la valorizzazione dei giovani che hanno portato a dopo 50 anni il campionato regionale alla città di Mazzara e Vallo, ricordo dopo 50 anni. Abbiamo anche quest'anno puntato sui giovani, abbiamo un under 19 ai vertici del campionato e abbiamo molti giovani nella nostra prima squadra. I ragazzi hanno fatto partire un urlo di disperazione perché si sentivano prevaricati senza accusare nessuno e abbiamo individuato Giovanni la figura giusta in un programma pluriannale per poter far diventare questi giovani sognatori di calcio che conta, di poterli accompagnare qualora possibile e con il loro impegno nel calcio che conta e quindi tramutare i loro sogni in realtà. Si sta aprendo il calciomercato, ci saranno novità? Sì, ci sono giocatori in uscita e ci saranno giocatori in entrata. Ovviamente guardando il bilancio e non perdendo di vista i talenti che abbiamo in casa.